Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. C'è una scadenza, una scadenza importante, che ci riporta un po' indietro nel tempo. Era il gennaio 2017, in Abruzzo, nel cratere sismico, ovviamente c'era il terremoto, ma c'è stata anche una nevicata storica. I danni? Sì, il 31 è la data ultima per presentare la domanda di rimborso, di risarcimento danni per i danni subiti dalla nevicata del gennaio 2017. Dopo tanto tempo siamo riusciti, anche grazie al commissario Legnini, a far mettere una somma a disposizione per tutti coloro che hanno subito dei danni. Il 31 si è avvicinato, vogliamo ricordare questa data importante a tutti i terramani affinché possano presentare presso l'ufficio della protezione civile la domanda di risarcimento danni. Ovviamente la domanda dovrà essere collaborata da una perizia giurata e da atti coevi che dimostrino il nesso di casualità con la nevicata e il crossisma. Lo ricordiamo perché le domande che sono pervenute ad oggi sono abbastanza poche e quindi la preoccupazione è che qualcuno si sia dimenticando di questa cosa così importante. Un fondo di 100 milioni di euro? Messe a disposizione ma che erano semplicemente l'inizio di un rimborso che poteva essere, diciamo di una somma che poteva essere messa a disposizione ma che poteva in tutti i modi essere aumentata.